Allora, mie amate pussole dreamers perché oggi siete ancora le pussole dreamers Mi son messa il cappuccio perché ho paura Anzi, abbasso anche la tapparella, aspettate Perché oggi, a grande richiesta Torna Piggy in compagnia della nostra Franci Ciao Franci Io sto abbassando tutto eh Ok, ho abbassato tutto, sono praticamente quasi al buio Ti dirò di più, abbasso anche queste luci qua, aspettate Io già sono nella penombra, quindi non mi serve Ah, non hai ancora sistemato, sei ancora in penombra Ma te l'ho scoperto che mi piace tantissimo questo aspetto Ah, qui registri così, ottimo Sì Raga, io piano piano sto facendo diventare Ah, aspetta, le luci grandi Ecco perché non riuscivo, avevo le luci grandi accese Franci, io sono al buio Vai, al buissimo, quindi adesso La Sabri farà la cacchina Esatto perché vi ricordo raga che io ho paura Speriamo che adesso non mi stia sentendo Che mi venga a far prendere gli infarti Io ho paura del buio, di qualsiasi cosa E giocare a questo gioco mi dà ansia Anche se so che è un gioco per bambini Mi fa saltare Allora, so che a voi piace questa felpa Che adesso vedrete qui nel mio video Ma purtroppo non è ancora in vendita Ma vi prometto che penso tra qualche mese sarà in vendita Questo è il mio prototipo Sì, è bellissimo L'ho messa su Instagram Te ne farò avere una Te lo prometto che quando ci vediamo Te ne regalo una Grazie, ragazzi, siete tutti testimoni Siete tutti testimoni Guarda, ti darò di più Una in più ce l'ho già Quindi te la tengo qui per te Per quando ci vediamo Te la faccio avere, ok Ci sei, Franci? Sì, allora posso andare su gioca? Andiamo su gioca Franci mi ha spiegato Oddio, ma dove siamo? È già partita Non ho fatto tempo Dicevo, vabbè, mentre intanto il gioco riparte Che Franci mi ha spiegato Che in realtà Piggy è una saga Nel senso che ci sono tanti capitoli Io non lo sapevo perché non conosco il gioco Quindi vorrei provare Aspettiamo che muoiano tutti Cos'è diventare fantasma? Cos'è diventare fantasma? Sono nella... No, Franci, non hai capito Io adesso ho fatto gioca Sto guardando la tua mappa Sono un fantasma E quindi sto andando in giro Ti posso consigliare e dire le cose Io adesso ero di fianco a te, Franci Anche se non mi vedi? Io ero di fianco a te Sono di fianco a te Te lo giuro, ti vedo Sono nel tuo fantasma Tipo adesso vedo Che c'è il lucetto verde Io quindi quando uno diventa fantasma Piggy non mi vede più Posso aiutarti e dire che cosa... Dirti che cosa fare Ah, fantastico Però questo fatto che dici che sei a fianco a me Non lo so Mi mette un po' di... Di terrore Eh sì, Franci, giuro Sia a mio che di Franci Anche perché voglio arrivare velocemente a 100.000 iscritti Per avere una nuova targhetta E mettete un like Sai che io non lo dico mai di mettere un like? Tu lo dici sempre Perché hai la tua pappina quella inizialmente È giusto? Io mi dimentico sempre, cavolo Io ormai vado... Sì, quando fai... Benvenuti a un nuovo video di Adopt Me Dai, vedete di morire, veloci Vedete di morire Ma sempre mi hai secciato Mi insegue? Piggy mi insegue? Piggy, mia Io intanto provo a fare cose da fantasma Ok, non ho messo la cosa Ma Piggy, puoi vedere chi è? Un botto o è una persona? No, non vedo chi è Però ti posso dire che sopra Hanno messo il pezzo di porta E c'è una chiave verde Non so se vuoi venire a prenderla Ok Perché mi sembrava che ancora fosse chiusa la porta verde È sopra, in mezzo al circo Ok, vai in mezzo al circo Ok, sì, un attimo solo Che c'ho la piccata per arancione Ma secondo me hanno usato i citti E l'hanno già presa la cosa che serviva lì Ah, perché si possono usare i citti? Sì, secondo me sì, l'hanno usata Ma non vale con i citti Oddio, oddio Hai Piggy dietro, Franci, hai Piggy dietro Ti fermo io, Piggy Mi sta ancora inseguendo, mi sta ancora inseguendo No, no, non ti stai inseguendo Io credo che possiamo scappare però Spesso, ricassata Franci, no, dai Tu sei tutti noi Quando uno muore ormai conta sull'altra Ok, penso abbiano fatto Scappo, 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 scappo Ho vinto, ho vinto, ho vinto Non ci credo Cioè, io sono morta come un cucù inizialmente Da dove si scappa? Signor P, sono qui per Chi sei tu? Sono scappata E perché la gente è qui a aspettare? Ma perché c'è Piggy incastrato? Te lo giuro, c'è Piggy incastrato Ma tu quanti punti hai fatto fino adesso? Puoi comprare le skin Dove si vedono i punti? Allora, devi andare nella schermata iniziale Vai, in pelli Che non è proprio In pelli Ho 105 Ok, quindi puoi scegliere di comprare fratellino Madre Padre Ah, ecco perché ogni tanto i Piggy sono diversi Io qualcuna ce l'ho Ok, no, io aspetto perché voglio arrivare a 150 per essere nonna Ok Nonna Piggy Vai, proviamo, gioca Ok, ok, ok Sto scegliendo la mia skin Dov'è la mia skin? Veloce che ci sono un posto Mancano 15 secondi Ci sono, ci sono Ci sono fatto Sì, sei dentro, sei dentro Sono dentro Ok Devi aiutarmi perché io non so giocare Lo sai Qualcuno è uscito Sì Chi è stato l'infame? Non lo sappiamo Allora, votiamo per la casa Ok, sì Ricominciamo all'inizio che devi prestare attenzione alla storia Ok, esatto Allora guardo la storia Quindi tutti stanno votando per la casa Sì Grandi, mi vogliamo tanto bene Allora, giocatore Giocatore? Andiamo su giocatore, sì Perché il bot sa sempre dove sei Magari il giocatore invece deve girare per la mappa Invece infezione? Se ti colpisce diventi Piggy Ma solo tu o anche l'altro? Tutti quelli che vengono colpiti diventano Piggy Ah, ok Cavolo, difficilissimo No, Nelly, volevo essere io Piggy No, dai Tu devi aiutare i miei padri, Franci No, mi devo vendicare per la volta scorsa È vero, è vero Allora, vediamo la storia Beh, questo è il posto in cui Giorgi Piggy è stato visto l'ultima volta Ok Cos'era quel suono? Oddio, hai sentito anche tu? Sì, perché è Peppa Pig È Peppa Pig Illustrami, Franci Allora, inizia a cercare gli oggetti Ok, qui la trave non c'è, mi hanno fregato Non c'è niente Ok Ok, chiave verde Verde giù Hai già la chiave verde, brava Bravissima Guarda che Piggy sta per svegliarsi E da dove parte Piggy? Dal centro proprio Ok Qua se cadi sei morta? Sì Quindi fai attenzione Quindi fai attenzione Chiave rossa che è sopra Ma no, sono già morta No, dai, fammi Ma ci sono rimasta male, era una roba nera Io che ne sapevo, non era Piggy Dai Qualsiasi persona ti sembra Ma no, non hai capito Io ho girato la porta e mi sono trovata un corvo con una faccia che mi ha ucciso Ma adesso viene a prendere a me, non ti preoccupare Io sto seguendo Piggy, ha messo una trappola sulle sca... Franci, stai per morire Lo so, me ne sono accolta, sto cercando di... No, Franci Ci siamo fatti fregare È rimasto qualcun altro Vabbè, riproviamoci Eh, vabbè, lui sta imbrogliando Lui sta imbrogliando In che senso sta imbrogliando? Sto usando i shit Ma veramente? Sì Come fai a saperlo? E quel po' guarda, guarda, lo vedi? Eh, sto guardando, cosa sta facendo? Ok, tipo incastrato nel muro Fai lo zoom Togli lo zoom Puoi entrare nella stanza e iniziare a prendere le cose Ah, ecco Quindi per quello è arrivato subito da me Come faceva a sapere che ero lì? Vabbè, Piggy non lo sa È il tizio che questo 5 zupec Che sta usando i shit Vai, prendilo Piggy! Prendilo Piggy! Cambiamo server Sì, cambiamo server Perché non mi piace quando usano i shit Vai Io, Franci, sono già in partita Anche tu? Ok, sì, anche io stiamo di nuovo Ok Piggy si è svegliato Ok Ok, Franci, posso uscire? Ti vedo È la nonna, eh? Attenzione Sta salendo, c'è Piggy poliziotto È Piggy nonna È qui fuori Ok, sta salendo Possiamo scendere Ma dove sei? Io sono sopra Io sto scendendo E c'è Piggy che sta salendo sopra Occhio, eh È Piggy che mi ha incastrato No, sei morta Ingranaggi Dimmi che non ti ha preso No, non mi ha preso Ma se non si sposta Non me ne posso andare Ti ha suonato il campanello, Franci A me? Sì Eh, non fa niente L'ho sentito io il campanello Allora, qua c'è la chiave verde La prendo e lascio qua gli ingranaggi Ok, la chiave verde Devi venire in cucina Ci sono Ecco, vieni Occhio, Piggy Aperto Chiave rossa Ok, vieni, è sopra Ma tu sei proprio tutto Vabbè, adesso ci sono poche mappe Quelle che mi dico Ok, aspe, Piggy è fuori giù Aspe, stai inseguendo a uno, Piggy Sta salendo sopra, mannaccia Come lo vedi? La, ero qui nascosta dietro allo standalo della porta Allora, andiamo sotto allora Allora, aspetta Prendiamo questa Io uso questa Io so, 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 bravissima Che ho preso il codice Dentro, hai messo tu la chiave? Sì Ok Aspetta, te serve sopra Eh, lo so Ok Cavolo, ma sei bravissima, Franci Sei bravissima Buvissima Uiii Allora, Piggy lo sa che stiamo ci serve sopra Vedi, è lì E non possiamo fare intanto qualcos'altro? Eh, in realtà ci servono le cose che sono in quella stanza Eh, ho capito, non penso che sia lì per sette minuti Aspetta che c'è il gatto che mi mangia le cuffie Gatto cattivo Eh Ok, attiro la sua attenzione Vai, Sabri, poi vai sopra Ed è ok Nasconditi Sono nello sgabuzzino No, mi ha capito Non mi mi ha preso Guardaci Se Piggy sta lì, che senso ha? Dobbiamo giocare Piggy Ehi, Piggy Ok, Sabri Ok, sta venendo, sta venendo, nasconditi Nello sgabuzzino sono Dimmi quando uscire Ok Esci, vai Sto andando, Franci Bravissima Bravissima, Franci Mamma, che butto Ok, ho aperto, Franci Ok, vai Ok Qui c'è una chiave azzurra E giù devi venire, dove c'è il pozzo Fuori Ok, scendo, eh Vai Eh, c'è Piggy che mi guarda No Sì Ok Aspetta Per Sta salendo a prendermi Da dove posso buttarmi giù senza morire? Ah, aspetta, 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 aspetta Ok Ehi, Piggy Sei buttata? Da dove mi butto? Soprattutto, se soprattutto c'è il cosino piccolo dove ti puoi fare piccolo e buttarti giù Ok, vado Ok, vieni Allora, c'è la azzurra Vieni Ti seguo Mamma, come l'abbiamo fregato Ah, ok, siamo usciti fuori Pronta Sì Vai Sto scappando Per me la chiave viola Eh, io non ce l'ho la chiave viola Adesso la cerchiamo subito E manca anche un ingranaggio L'ingranaggio di che colore? Quello celeste Ah, io provo Allora c'è Piggy in sala da pranzo Io provo un attimo a salire su Ok, io provo a distrarlo qua Piggy è davanti alla porta Ok Lo sto vedendo, eh Io lo tengo d'occhio Per ora è fermo davanti alla porta È fermo davanti alla porta Ah, ho capito che ho sbagliato Ok, tanto vai tranquillo perché Piggy è sempre lì davanti, lo vedo Ok Dove ho lasciato? Sta venendo via Salendo? Eh, adesso ti dico dove va Aspetta che ho paura No, è sempre qua davanti alla porta, Bianca Eh, ok, ok, ho trovato quello che dovevo fare Però adesso come risalgo se Piggy è lì? Ok, Piggy è distratta Sì, sì, Piggy è tanto davanti al lucchetto Dove sei? Sono in cucina Ok, ok, ok Io sto andando soprattutto Piggy si muove, Piggy si muove, Piggy si muove Ok, no, lo vedo sempre qui, tranquillo Fai tutto Perché lo vedo Ah, nella cassaforte viola c'è la pistola Quindi se io riesco a trovare l'ingranaggio A me serve soltanto l'ingranaggio Conta che i proiettili erano dove erano prima Dove siamo andati di sotto Aspetta, aspetta, aspetta Di fianco alla cassaforte c'erano i proiettili Ho trovato l'ingranaggio Vai super tranquilla perché Piggy è qua, eh Ok, anche io sono in cucina per il momento Non so tu dove sei Sono in sala da pranzo Possiamo scappare Ti seguo da dove? Ok, sono qui davanti a te, sa Il problema è il seguente Piggy è ancora lì? Eh sì Allora dobbiamo fare una cosa Sì Te la senti? Sì, mi faccio io la cavia Dobbiamo andare a prendere la pistola E' quello che penso anch'io Perché c'è Siri che parla? Lascia aspettare E dove la trovo la pistola? Vieni con me Sei pronta? Vieni Sì Sali Qualcuno si è suicidato Ah, e vuoi che intanto vado a prendere i proiettili? No, no, no Vieni perché devi prendere la chiave Perché io ho quella lì per scappare Ok Quindi dobbiamo sparare a Piggy Devi prendere la chiave arancione Ok Adesso Fatti piccola e buttati Ok Franci sei un mostro Buttati qui Ok Abbiamo tre minuti Franci Vai qui qui Sabri Tre minuti abbiamo Cosa c'è qui? No, non c'è la chiave viola No Non sappiamo dove è la pistola No E con la chiave viola Ok Questa, prendi questa Presa Ok, dobbiamo risalire su Aiuto Piggy Ok Vai, vai, vai Ci sei? Sì, sì Ok Cioè, la possiamo fare Vai, abbiamo due minuti e mezzo Ce la facciamo, ce la facciamo Vieni Ok Vado Prendi anche i proiettili Ok E allora Nel momento propizio Tu spari a Piggy Io apro la porta e scappiamo Ok Ok, aspetta che prendo la pistola Tanto abbiamo 20 secondi Da quando Piggy muore, giusto? Sì Devo prenderlo È lì? È lì Sì, Piggy è qui Vai Non sbagliare Sì Vai Sì Brava Sei la più forte Franci Ti adoro Bravissima Sì Oh, sì Mio Dio Ma Franci Siamo un duo pazzesco Uh Uh Sono gasata tantissimo Guarda mia Ragazzi Io e Franci Siamo le migliori Lasciate un commento qui sotto Scrivendo Le pusole dream Spaccano Noi vi mandiamo un bacio Vi lascio Qui sotto in descrizione Il canale di Franci Perché anche oggi Sul suo canale È uscito un video Di Piggy insieme Sono troppo gasata Sono troppo gasata Franci ti prego Vinciamo anche nel tuo Ti prego Noi vi mandiamo un bacio E vi diamo appuntamento A domani Con il prossimo video Ciao Pulsole Wow Siamo state fortissime Ciao 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 Ciao